Buon pomeriggio a tutti carissimi amici, anche oggi 23 luglio Italia chiama Brasile e in modo particolarissimo e specifico chiama in questo momento Marco a Rio, buongiorno Marco. Buongiorno. E diciamo proprio buongiorno perché in Brasile, lo ricordiamo, in questo momento sono circa le 9.30, Marco? Sì, sono le 10 di mattina, c'è un fuso orario di 5 ore. Benissimo, questo ce lo ricordiamo perché di fatto condiziona noi italiani poi nel seguire tutti gli eventi previsti per la giornata mondiale che, lo ricordiamo, si stanno celebrando in questi giorni a Rio proprio per la 28esima giornata mondiale della gioventù. Marco, noi sappiamo che ieri il Brasile ha accolto veramente con estremo calore il Santo Padre. Papa Francesco è arrivato e ha bussato, egli stesso ha detto, alle porte dei brasiliani chiedendo di poter entrare. Raccontaci, facci entrare e andare lungo le strade di Rio perché a noi i giornali hanno raccontato che la gente era tanta, quasi da non poter dire cifre certe. È vero, intanto dico subito che è la prima volta che io ho, è la terza GMG a cui partecipo ed è la prima volta che riesco a partecipare all'arrivo del Papa. Generalmente ero sempre schiuso in uno studio a lavorare, quindi per una volta ho vissuto anch'io questo evento e l'ho vissuto con il popolo brasiliano, il povo Girua, con la gente nella strada, con la gente di strada e la gente nella strada di Rio. Sicuramente ho usato la parola calore come vedremo poi nei giornali, è calore in tutti i sensi perché c'erano circa 30 gradi con un'umidità che non so a che percentuale arrivasse, quindi era davvero calore. Noi siamo arrivati vicini alla cattedrale di Rio, che come forma, avete visto, sembra un panettone, no? All'interno qui è bella. E arrivati lì, siamo arrivati già due ore in anticipo, era già veramente stracolmo di persone, io non ho mai visto una cosa del genere, persone, bambini infilati un po' in tutte le fessure, come potete vedere anche nelle foto che abbiamo caricato nei nostri social, no? Mancavano ancora due ore, quindi siamo messi a camminare un po' per tastare e vedere un po' il clima, come le persone si stavano preparando all'arrivo del Papa. Io seguivo la radio che trasmetteva ormai da diverse ore la preparazione dell'accoglienza del Papa, ma c'era già ovviamente un clima di festa. Io paragono sempre, non vorrei essere scambiato per eretico, però la sensazione in questi momenti è che tutti ci si conosca già, è come quando l'Italia del calcio, no? Vince la Coppa del Mondo, si va in strada e tutti quanti ci si conosce, solo che lì dura tre ore, quattro ore, qua invece dura, come ha detto il Papa, una settimana, no? Dice la giornata mondiale della gioventù, l'ha un po' ribattezzata la settimana della gioventù, perché è vero, è un miracolo che dura diverse giornate, non poche ore. Lì abbiamo incontrato tanti pellegrini, soprattutto sono rimasto colpito dall'entusiasmo degli argentini, entusiasmo che non era dovuto soltanto al fatto, abbiamo il Papa argentino, quindi siamo più contenti degli altri, no? L'entusiasmo per le difficoltà che gli argentini hanno avuto per arrivare qui, quindi ho parlato anche non solo con i giovani, ma ne ho parlato con un sacerdote, un diocesano, che ha raccontato, dice siamo qua per provvidenza, abbiamo raccattato un po' soldi di qua e di là, perché il governo non li ha certamente aiutati, hanno avuto davvero tante difficoltà e quindi erano veramente, sono esplosi di gioia, esplosi di gioia soprattutto nell'apprendere che il Papa avrà un incontro personale con loro. Arriviamo proprio a ridosso dell'arrivo del Papa, siamo stati circondati, circondati si può dire da elicotteri, c'erano elicotteri sopra le nostre teste con luci, sembrava di essere in un film di quelli del tipo a fine del mondo, no? E a un certo punto, io seguivo dalla radio, i cronisti erano perplessi perché c'è stato questo cambiamento di rotta, questa confusione, no? Nel tragitto del Papa, a un certo punto si sente un rumore, ho detto, oddio, un terremoto e invece era appunto questo cambiamento di rotta e la gente si è riversata da un punto all'altro della strada. Per fortuna io mi ero tenuto in uno slargo, sono riuscito a scappare prima di essere travolto dallo tsunami di persone che hanno davvero abbracciato Papa Francesco, stavano per abbracciare anche i cronisti, travolti con telecamere e tutto, ma nessuno si è, era un entusiasmo, era una festa, era una cosa davvero, io non mi commuovo mai, ma è stato commovente. Io poi sono rimasto in una postazione, tra molte virgolette, privilegiata, vedevo proprio, ho visto il Papa uscire dalla cattedrale e davvero sembrava di vederlo, nonostante lo vedevamo piccolo, un puntino, ma ogni suo gesto era una cosa, non lo so, come se ti toccasse la spalla, come se ti facesse, ciao Marco, quando so che sei qui, a me e agli altri, salutava tutti, questa era la sensazione, non solo mia, ma di tutte le persone. Beh, diciamo che almeno da quello che abbiamo colto da reazioni e da foto linkate, taggate, condivise anche nei social, in Facebook soprattutto, ha sconvolto il fatto di vedere il Papa in una piccola macchinetta, così moltissimi sui social ne parlavano questa mattina, una piccola macchinetta, in fondo un Papa che era salito ieri sull'aereo portando il suo bagaglio a mano, quindi ha sconvolto così come gli stessi giornalisti, almeno dicevano alcuni, sono stati sconvolti dal suo parlare nel discorso fatto anche proprio sull'aereo con i giornalisti, ricordando anche situazioni problematiche che toccano non solo i giovani, ma anche gli anziani. Come dire, un Papa che quell'abbraccio lo ha ricevuto sicuramente, ma che appunto come tu dicevi, probabilmente è disposto a darlo e a darne costantemente e a tutti, l'impressione è che nessuno si sente escluso da quell'abbraccio. Sì, sì, credo che sia proprio molto più di una impressione, perché realmente era una sensazione fisica e quindi un'emozione, ripeto, attorno a me c'erano tante persone che piangevano di gioia, io non ho mai visto una cosa del genere, ripeto, è stata un'emozione grandissima anche per me e non è la stessa cosa vederlo in televisione o essere là, perché vieni proprio, ti senti davvero, vivi questo abbraccio del Papa, l'abbraccio di tutte le altre persone, la bellezza di essere chiesa, davvero. Bello, bello. Marco, oggi noi sappiamo che attende i giovani presenti a Rio la cerimonia di inaugurazione e a seguire la messa. Lo ricordiamo, per noi ora italiana sarà più o meno intorno alle 23, l'inizio delle cerimonie di accoglienza, ovviamente poi a seguire la celebrazione, momento straordinario, momento crediamo a cui il Papa richiamerà tutti a vivere questo momento all'insegna dell'ascolto e di quell'empatia. Ieri nel suo discorso fatto proprio come discorso ufficiale con le autorità anche del Brasile, lui si è presentato umilmente, cosciente di non portare né ricchezza né null'altro se non Gesù Cristo ed è cosciente di essere lì in nome del suo amore che ha ricevuto come una delle più grandi ricchezze della vita. Ecco, l'aria, l'aria che si respira anche da altri punti di vista, da chi in qualche modo il Papa lo sta accompagnando anche con l'informazione. Oggi intanto vabbè sì, vi dico che in questo momento c'è, a Rio sta garoando, significa pioviginando, ma è una piogirellina talmente leggera che punge, sembra di avere le mani informicolate, si può dire così, no? E quindi c'è un po' di preoccupazione perché dice se piove nella spiaggia di Copacabana è un disastro, però mancano ancora tante ore e speriamo che il tempo si risistemi. E da un punto di vista dei giornali, io lo seguo anche da internet, ma mi piace la mattina presto andare a comprare i giornali e quindi vi posso raccontare un po' quello che c'è oggi. Sì, siamo molto curiosi. Visto che io l'ho lasciato per ultimo, inizio da Ugia, che è il giorno che pubblica questa foto del Papa, ovviamente tutti i giornali pubblicano le fotografie del Papa che arriva, e titola ecco, Elie sta numeio ginos, è la risposta che si dà nelle chiese brasiliane quando si dice il Signore sia con voi, qua si risponde Elie sta numeio ginos, lui sta in mezzo a noi e generalmente dopo aver risposto in questo modo si applaude, un applauso che la prima volta che uno lo sente dice che è successo, è un matrimonio, ha finito l'omedia al vescovo, no no, qua si applaude regolarmente a tutte le messe a questa frase. Il sottotitolo è Cristo, Botafei nu joven. Botafei è come sapete il nome della manifestazione che ha accompagnato la croce e l'icona della GMG in tutto il Brasile e anche adesso a Rio, Botafei ha usato questo termine, il Papa è Cristo a fede, Cristo crede nei giovani, quindi con questa frase il Papa si è presentato ieri, dice il giornale nel discorso con la Presidente del Brasile, sottolinea l'umiltà soprattutto del finestrino aperto della macchina, quindi che il Papa ha potuto toccare proprio alcuni fedeli durante il tragitto in macchina e soprattutto durante, la parola esatta è engarrafadu, proprio il blocco che c'è stato della macchina, del corteo papale, non previsto. La popolazione, la gente si è emozionata e poi fa ovviamente riferimento anche alle solite manifestazioni di protesta che accompagnano tutti i viaggi dei papi e non solo le GMG. Dentro il giornale troviamo quest'articolo che stamattina forse ero ancora un po' addormentato, mi ha spaventato, Francisco è, scusate qua la telecamera è al contrario, Francisco è cosa nostra, Francesco è cosa nostra, che però non significa quello che possiamo pensare noi italiani, ma è una cosa brutta, cosa nostra, sempre significa cosa nostra, ma è una canzone, un samba, uno dei balli e dei ritmi più famosi in Brasile, quindi fa riferimento a questo, ed è la foto del Papa che bacia un bambino. In questo giornale l'ultima cosa che volevo segnalare è il bambino di 9 anni che tutti si chiedevano chi è che ha dato i fiori al Papa, ieri ho letto che questo bouquet è stato preparato da un ragazzo con i tre colori, poi il bambino è Gustavo Silva Clemenci, un bambino di 9 anni della famosa favela di Roscigna, che è una favela pacificata, che ormai è un punto turistico quasi, addirittura ci sono negozi dentro questa favela, anche molti famosi dove si possono mangiare panini senza fare pubblicità, ci sono banco, ma insomma è un punto turistico, però era una favela ed è ancora una favela, una comunità, come si dice qua in Brasile, delle più importanti di Rio. Questo bambino è in lacrime ieri perché ha ricevuto dal Papa un rosario, allora lui dice mi sono emozionato molto e terrò questo rosario sino al giorno della mia cresima, quindi lo terrà appeso nella sua camera da letto sino alla sua crisima. Poi andiamo invece, se posso, poi bloccami tu Maria Angela. Sì, ancora due minuti Marco. Aiuto, un sacco di cose. Allora faccio vedere velocemente un giornale che ieri non abbiamo visto, extra, che mette questo titolo qua, Papa Maviu, è un gioco di parole, no? Papa mobile, Papa Maviu significa Papa amorevole, Papa amorevole, quindi c'è la foto del Papa che abbraccia la gente di Rio. Poi Globo, che tutte le fotografie sono uguali, questo fa parte del copione della GMG, quindi l'arrivo del Papa, soprattutto la foto è quando sta uscendo dalla cattedrale e qua il titolo è il Papa trascina la folla nelle strade, evita il discorso politico nel palazzo. Quindi dice nel palazzo Guanabara, che tra l'altro una curiosità, mi diceva una ragazza di Rio, io devo dire la verità, non lo sapevo, Guanabara era il nome prima della città di Rio e dello stato di Rio de Janeiro, quindi il palazzo Guanabara, il pontefice si è limitato a parlare di tematiche religiose e dell'importanza della fede cattolica, nel frattempo invece la Presidente Giuma Rousseffi ha unito il tema della giornata mondiale della gioventù al desiderio di cambiamento espresso dai giovani nelle strade del paese nelle ultime settimane, le manifestazioni di protesta, quindi il giornale sottolinea in vari punti non soltanto Globo, questa è una tematica che si trova in altri giornali, il fatto che i giornalisti più che la gente direi, sono rimasti delusi, si aspettavano che il Papa parlasse subito appena arrivato delle manifestazioni di protesta, adesse subito un messaggio politico invece ha soltanto parlato di religione, della fede cattolica, di Cristo e quindi questo non è importante. Ovviamente poi vengono segnalate altre manifestazioni, ecco soltanto una nota di colore, perché fa avrei tantissime cose ancora, che troviamo nell'inserto di Globo. Marco ti chiedo scusa, mentre tu cerchi e sfogli l'inserto, giusto una piccola chiave di lettura, perché leggendo il discorso che il Papa ha fatto poi ieri, io oserei anche qualcosina in più, poi chiaro ci prendiamo tutte le responsabilità di quello che diciamo, se per politica noi intendiamo la salvaguardia del bene di tutti, del bene comune, io direi che probabilmente non è stato un discorso carico di partigianeria, quella che di solito ci aspettiamo, invece è stato un discorso profondamente direi argutamente politico, perché il Papa ha usato parole forti nei confronti delle attuali generazioni di adulti come responsabilità verso l'educazione, la formazione dei giovani. Noi come Chiesa Italiana viviamo un decennio forte, improntato proprio sull'educazione e la formazione, però noi lo sappiamo che è una sfida mondiale, quella che ci sta interpellando, come educazione all'umano, come educazione alla vita, educazione alla bellezza. Allora che un Papa si rivolga a dei politici, a delle autorità e gli chieda più che in modo confessionale, in modo paterno potremmo dire, di salvaguardare l'orizzonte della trascendenza, perché in fondo questo aiuta i ragazzi, aiuta i giovani a non fermarsi alla crisi del presente, ma a sperare, a pensare che un futuro migliore è possibile anche se interpella ciascuno per essere costruito. Ecco, io credo che dando questa interpretazione che non sento forzata, non sento fuori luogo, anzi nonostante la distanza, rileggendo e pregando potremmo dire su quel discorso, si sente il cuore di un padre, padre dell'umanità, che sa di avere responsabilità in ogni singolo verbo, in ogni singolo sostantivo che usa. Condivido totalmente, infatti la mia era una battuta polemica, diciamo, ma siamo abituati. Insomma, volevo raccontare altre due cose, brevemente la storia di uno dei bambini che il Papa ha, noi siamo abituati a Roma, in piazza San Pietro, a vedere il Papa che abbraccia, bacia i bambini, è sempre molto attento, per la verità, quando qualche bambino piange e i genitori cercano di darglielo per forza, il Papa dice, vabbè, non esageriamo, ma nel caso di questo bambino c'è una storia bellina, che non so se è arrivata in Italia, il bambino si chiama Miguel Braga Coelho, aveva sette mesi, ha sette mesi, la famiglia è venuto col padre, la madre e una sorellina, hanno viaggiato 1100 chilometri per arrivare qui a Rio per incontrare il Papa e quindi il padre ha avvicinato il bambino al Papa, il Papa l'ha preso, l'ha baciato, la sorellina racconta che il fratellino normalmente piange, insomma protesta un po', invece questa volta ha sorriso, si è sentito quasi una risatina di allegria del bambino e il padre qua racconta, ovviamente la famiglia è commossa in un'allegria in una festa, il padre racconta che dice qualche giorno fa sono stato in una chiesa e un sacerdote mi ha detto, il padre della chiesa mi ha detto che ha sognato che Miguel, mio figlio, sarebbe stato benedetto a Rio, quindi lui ha visto questo come un segno di providenza e mi è piaciuto e poi volevo concludere, a me ha fatto ridere moltissimo questa cosa, devo dire ieri mi era sfuggita e l'ho trovata nel giornale di oggi il Papa ieri in aereo e quindi quello che è successo ieri in aereo e lui era nella prima classe, poi sappiamo tutto il discorso del rifiuto della camera privata, della stanza in aereo eccetera e lui a un certo punto, dopo un'ora, un'ora e mezza di viaggio ha lasciato la prima classe e si è recatto nella classe economy dove c'erano i giornalisti e ha detto subito, come hai detto anche tu Mariangela, che non è che sia così tanto amante delle interviste, però poi dopo ha iniziato a parlare e sono venute fuori di tante cose importanti e anche divertenti, mi piace sottolineare questa, mi ha fatto ridere davvero tanto, una giornalista ha detto che dopo la fumata bianca erano lì dopo il conclave aspettando di vedere chi era il Papa e dice che i giornalisti i brasiliani, alcuni giornalisti e fedeli dicevano tutto tranne un Papa argentino e allora il Papa ha risposto, dice ma come, ma voi avete già un Dio brasiliano e volete anche il Papa brasiliano, non vi accontentate di nulla e la battuta del Papa di Francesco si riferisce al pellegrinaggio di Giovanni Paolo II che aveva detto affacciandosi a una finestra Dio è carioca, quindi Dio è qui di Rio de Janeiro, Dio è brasiliano. straordinario, il Papa che ci fa sentire veramente un'umanità eclettica in cui vive tutto, un Papa che sa chiederci coraggiosamente il silenzio dell'ascolto e un Papa che sa coinvolgerci anche con l'ilarità e la sua giovinezza interiore. Noi siamo quasi al rush finale, ultimissimi minuti ma prima, prima di concludere, prima di salutare, farci salutare da Rio e da Marco una battuta veloce anche alla nostra Maria Rosaria che ci segue tecnicamente con queste dirette, ma che poi si occupa anche dei nostri social, di intrattenere relazioni con voi che scrivete, con chi chiede qualunque spiegazione e interfacciacci con la rete, Maria Rosaria, cosa succede? Tra ieri e oggi i post più seguiti sono stati quelli dedicati soprattutto al Papa, proprio perché c'era questa grande attesa, hanno apprezzato molto le foto e il video del Papa dell'arrivo del Papa, fatti dal nostro staff che si trovava in Brasile, infatti Mauro voleva, era curioso di sapere quanto vicino erano riusciti a arrivare quelli dello staff, erano riusciti a arrivare al Papa. Molto cliccate sono state anche le foto preghiere dello staff italiano e inoltre Tiberio voleva avere qualche indicazione in più anche sulla cultura, sugli usi e i costumi brasiliani, proprio per conoscere meglio la gente del posto, anche perché come ha detto il Papa l'unione avviene al di là delle diversità, quindi la voglia di conoscere anche gli usi e i costumi del posto. E poi volevo fare un saluto a Silvia e a Rita che ci fanno sempre l'in bocca al lupo, che ci seguono e anche a Chiara e Rossella che ci hanno scritto, anche loro che stavano seguendo la diretta. E per il resto sì, volevo sempre ricordare di seguirci sulla pagina Facebook e di ricordarsi di interagire con noi anche durante la diretta. Sì, ricordiamo che oltre a Maria Rosaria ci sono altri inviati speciali pronti a raccogliere e mettere insieme anche i vostri commenti. Prima di lasciare la parola e quindi l'ultimo saluto conclusivo proprio a Marco dal caldissimo Rio, di fatto vogliamo ricordare a tutti quanti che alla conclusione di questo nostro hangout, proprio per stare in sintonia e dare risonanza al quanto il Santo Padre ieri all'arrivo a Rio ha affermato, sarà disponibile quindi per le vostre condivisioni e per la pubblicazione sulle vostre bachieche un piccolo post-it con un messaggio del Papa. Un messaggio fenomenale, direi che in pochissime righe dice e sprona tutti i giovani a una grande e importante rivoluzione, assumere quella stessa missione che Gesù con grande fiducia ha affidato a ognuno. Allora ricordiamo che in pomeriggio sui nostri social e sui nostri siti saranno ancora disponibili collegamenti, ricordiamo alle ore 19 la videocatechesi, passi nella fede, alle ore 17 sulle note di Liga Bue ci muoveremo con Metti in circolo il tuo amore e saranno in pomeriggio disponibili le foto preghiere che in molti di voi già stanno scaricando in sette lingue, così da poterle condividere anche con amici e conoscenti di altre parti del mondo, proprio perché la GMG diventi un'esperienza di fede condivisa veramente da tutti. Da Suor Maria Angela e quindi da tutto lo staff italiano, credo che per oggi sia tutto, continuiamo a vivere questa GMG all'insegna della grazia e le ultime parole oggi le lasciamo a Marco Dario. Allora io volevo, vediamo se mi ricordo un po' le domande, ma Rosera rispondere a Tiberio e all'altra domanda, gli usi costumi, intanto Tiberio puoi leggere l'articolo che parla di quello che si può mangiare e bere qui in Brasile, poi come tutti sapete il calcio è un gioco che seguono tutti uomini, donne e bambini, non c'è una casa dove il calcio non sia al centro, non è un luogo comune, è davvero così. E poi come spesso ho detto il Brasile è un paese dove veramente la fede viene vissuta in maniera forte, non soltanto dai cattolici ma dai cristiani e ci sono anche tante altre religioni, quindi la fede è un qualcosa di forte, veramente sentito. L'altra domanda era su, una era usi e costumi, l'altra ma è Rosaria? Era a che distanza ci trovavamo? Allora noi abbiamo cambiato postazione due volte a causa del terremoto, dello tsunami di persone che è arrivata, eravamo a circa penso di poter dire 200 metri dall'entrata della cattedrale, potevamo arrivare anche un pochettino più vicini ma non era proprio il caso, anche perché quella ripresa è stata fatta da un punto alto, perché se andavamo più in basso con tutta la gente che c'era non avremmo visto niente. Per concludere, l'augurio l'ho fatto ieri, volevo dire sicuramente che noi stiamo pubblicando ogni giorno, ogni mattina una videotestimonianza del fondatore di una comunità, oggi è la volta di Corazon Fieu, cuore fedele di padre Delton, fondatore di questa comunità che parla italiano. Nel caso di testimonianze in portoghese, come quella che andrà domani e come quella di ieri, ricordatevi che qualcuno ha scritto ma come in portoghese non si capisce niente, certo ci sono i sottotitoli, quindi bisogna attivare i sottotitoli che sono in basso a destra, attivare i sottotitoli ovviamente in italiano e abbiamo curato la traduzione di tutte queste testimonianze che credo siano interessanti. Bene Marco, grazie mille allora e buona GMG dal web a tutti noi che clicchiamo. A domani ore 15. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.